ben trovato in questa nuova edizione delle tg table il telegiornale di around table il telegiornale che si prende l'improbo compito di segnalare i giochi in uscita sul mercato italiano questa volta per il mese di luglio 2023 luglio col bene che ti voglio vedrai non passerà ancora una volta per darmi una mano in questo improbo compito ho chiesto un aiuto agli amici di irtemis irtemis è un negozio che dovete assolutamente andare a cercare sui social perché oltre ad avere arrivi pressoché settimanali più volte a settimana offerte giochi sempre in prova e le ultime novità inoltre partecipa spesso anche alle anteprime organizza delle serate nei pub dove è possibile provare gli ultimi giochi anzi proprio in questo periodo sto facendo delle iniziative per farvi provare dei giochi specifici andatele a trovare ne vale assolutamente la pena e cominciamo a sprombattuto e lo facciamo subito con asmodè che ancora una volta ci porta uno dei giochi più attesi dell'anno e questa volta anche un po porcellone perché è vietato ai minori di 18 anni sto parlando di assable unicorns vm 18 un gioco che assolutamente non vedremo qui su a roundtable perché questi giochi non ci piacciono in nessuna maniera però piacciono a tanti di voi lo so soprattutto questo che vm 18 proseguiamo con punchline per tutti gli appassionati di stand up comedy un gioco che no non è neanche questo se le punchline sono le battute topiche di un comico di un rapper in punchline dovremmo fondamentalmente fare quello che facevamo in card against humanity sul mazzo di carte c'è una frase e noi con le frasi presenti su un altro mazzo di carte dobbiamo rispondere quella più divertente vincerà lo comprerete io no ancora una volta non è proprio il gioco per me proseguiamo con arcamorror living card game il circolo spezzato questa volta la campagna che non ricordo se dove uscire già il mese scorso questa volta ci riprovano con i grandi antichi dovrebbe uscire anche questo mese spostato rispetto al mese scorso il cercasogni del signore degli anelli living card game proseguiamo con tru dvang legends uno di quei gioconi pieni di miniature che solo culmina or not sa fare che ovviamente asmoday ci porta a casa anche questa volta è un gioco pieno di avventure di scenari di mostri di miniature un sacco di plastica bellissima che dobbiamo assolutamente reperire sempre su questa scia esce a luglio zombie side rio z janeiro rio z janeiro non lo so dire un'espansione per zombie side in cui dovremo abbattere gli zombie con la capoeira di cui io non so assolutamente niente se ballate la capoeira sarà il gioco per voi un altro gioco abbastanza interessante questa volta ci potrei fare un pensierino è tuning machine un gioco ispirato all'antuning in cui dovremmo mandarci dei messaggi cifrati tramite un vecchio calcolatore di quelli che avevano le piastre forate un gioco per quelli come me che hanno circa 127 anni molto interessante bisognerà vedere se va la pena effettivamente acquistarlo dovrebbe uscire questo mese spostato rispetto al mese scorso anche kangasereos un gioco di cui possiamo finalmente vedere le illustrazioni di mammucari non teo il comico ma il disegnatore passiamo a genos game che porta sui nostri tavoli uno dei giochi più attesi dell'ultimo decennio sto parlando di darwin journey in questo gioco dovremmo seguire darwin nel suo viaggio nelle galapagos we galapagos ricordate questa citazione io no la dico per far vedere che sono simpatico questo gioco che è basato su statistica movimento punto a punto preparazione variabile insomma tantissime cose e anche collezione set non solo dovremo piazzare i lavoratori ma anche istruirli per fargli fare delle azioni sempre più complicate un gioco molto interessante e poiché darwin non si fermava mai e uscita pure l'espansione darwin journeys terra del fuoco giusto per proseguire in questo viaggio di darwin 2 gioco un'espansione veramente molto interessante e molto attese sempre genos game ci porta a rivire un gioco in cui dovremmo ricostruire l'umanità distrutta è finalmente un gioco di attualità in questo gioco dovremmo ispirare una nuova civiltà con i nostri altissimi ideali e questo ci fa pensare che la civiltà è finita anche questa volta proseguiamo con giochi uniti che porta sui nostri tavoli la compagnia delle indie finalmente un gioco in cui dovremo creare quei terribili profumi che ci regalano a natale no assolutamente non è vero è un gioco sempre di piazzamento lavoratori però ha un twist interessante perché dovremmo stare anche attenti alle logiche del mercato per tutti i broker in erba questo potrebbe essere veramente un must have e secondo me va tenuto d'occhio sempre giochi uniti porta sui nostri tavoli uno dei giochi più apprezzati all'ultima modena il gioco per tutti quelli che fanno di quel motto mi hanno lanciato nella selva ne sono uscito lupo per l'appunto il gioco è the wolf in cui dovremmo far viaggiare il nostro branco di lupi e farlo sopravvivere nelle difficoltà per l'appunto che può vivere un branco di lupi la caratteristica interessante che ogni volta che ci muoviamo su una tessera dobbiamo rovesciarla e scopriremo come ci dovremo muovere nel turno successivo gioco molto interessante che ha avuto buon successo proseguiamo con cranio creation che ci porta autobahn ovvero l'azione che faccio quando dite che parlo male o incespico vi banno in questo gioco dovremo costruire le autostrade in germania e finalmente possiamo fare uno smacco ai tedeschi costruendo delle autostrade terrificanti il gioco è molto carino e molto interessante è anche una versione in solitario abbiamo anche delle campagne insomma è un gioco veramente molto interessante passiamo di palo in frasca ma sempre in casa cranio creation perché cranio porta escape room card game la soluzione aurea sulla confezione c'è scritto gioco di carte rigiocabile e per un gioco della linea escape room a me sembra del tutto strano vabbè in questo gioco dovremmo fare fondamentalmente degli alchimisti e creare delle alchimie tramite queste carte chissà come sarà possibile rigiocarlo oppure se questo nome escape room è soltanto messo lì per farcelo piacere a quanto pare sia hamlet che terranova sono stati spostati a luglio e speriamo che questa volta li portino sui nostri tavoli passiamo a asbro questa volta senza wizard che peccato nulla di dungeons and dragon sui nostri tavoli due giochi il primo è five alive che fondamentalmente dovrebbe essere una versione edulcorata del black jack ma soprattutto cluedo conspirasi un gioco di investigazione dove dovremo da una parte ammazzare un il signor coral farm e dall'altra parte dovremmo evitare che questi cospiratori riescano ad ammazzarlo io ho capito che il gioco dovrebbe essere così un gioco che solletico al mio interesse ma mi ho paura che sia troppo facile e non essendoci scritto sopra dungeons and dragon perché comprare un gioco di investigazione troppo facile che non c'è scritto dungeons and dragon è proprio sbagliato in luce passiamo a ravesburger non facciamo dei puzzle ma bensì castle of burgundy special edition questo è un gioco storico è una versione estensissima enorme il gioco dove dobbiamo piazzare tessere muoverci sulla griglia abbiamo il bonus a fine partita dobbiamo piazzare i lavoratori ma con i dadi collezionare set lancio set in solitario un gioco a squadra insomma è uno di quei gioconi giochissimi storici che ha fatto per l'appunto la storia del board game che viene riproposto sul mercato italiano con questa edizione enorme da circa 200 euro e io non so se riesco a comprarlo che dromma della vita sempre ravesburger ci porta level 8 uno di quei giochi un pochino per tutta la famiglia concludiamo questa carrellata di giochi con lucky duck game che ci porta tribe of the winds un gioco in cui dovremo ricostruire ancora una volta una civiltà distrutta però facendo in modo di ispirare i nostri compagni di avventura nel tentativo di farlo in armonia con la natura lucky duck game ho capito che sono degli fortissimi naturalisti e quindi questa cosa mi piace particolarmente il gioco ha una grafica meravigliosa e sto seriamente pensando di portarvelo qui sul canale e adesso è il momento di far diventare il tg table una vera e propria testata giornalistica già perché devo fare una rettifica e non c'è testata giornalistica senza rettifica il mese scorso ho segnalato l'uscita per dragomaga di grafomante all'arrembaggio problema è che grafomante all'arrembaggio è uscita circa un anno fa vero libro in uscita questo mese è grafomante con delitto ma poco male perché entrambi i libri sono molto validi e molto divertenti e questo mi ha dato l'occasione di far diventare il tg table una vera e propria testata giornalistica con le rettifiche e a questo punto è il momento di fare un po di notizie dall'interno perché sono usciti i 120 milioni di giochi che sono state candidati al gioco dell'anno 2023 di lucca comics e andiamo a fare un piccolo escursus su questi titoli abbiamo five minute dungeon e family mystery ma perché no seriamente perché tanto quanto misteri ma dungeon ma perché perché acropolis un gioco che abbiamo visto su a round table e quindi deve vincere lui brian frizz un gioco in boccetta di cui non so assolutamente nulla bunny hopes bunny hopes ma perché challengers già più carino e 5 il gioco del mese scorso che avevo detto i cinque del quinto piano a canale 5 vabbè interessante coral brain il gioco dove a ogni domanda dovete rispondere con un colore che giorno è oggi verde compagnia delle indie che è uscito questo mese cioè a luglio e quindi non posso dire nulla al riguardo defgon che l'abbiamo provato al comico ne a me è piaciuto veramente tanto e devo dire anche che se siete un pochino belli giranti vi darà la possibilità di sganciare un sacco di bombe atomiche dream quest che un gioco che ci potrebbe stare effetto mandria siamo a tele mucche poi ci può stare evergreen un gioco abbastanza interessante federico da molteferro il duca questo è veramente bello per chi ama i profili finisterre anche questo non ho nulla da dire flamecraft un gioco perfetto per le famiglie e ormai questi questi premi premiano appunto i giochi per famiglie tanto quanto hats è anche questo un gioco per famiglie abbastanza carino it ne abbiamo parlato tutti ne hanno parlato chiunque quindi potrebbe vincere hands è il gioco delle uova che va a finire a uova in faccia il regalo il regalo bizzarro la battaglia dei pirati mind bug ci sta sempre un gioco di garfield perché i giochi di garfield si possono sempre premare ma i scelvi che mischia tantissimi tantissime meccaniche pure potrebbe essere interessante nebbe su carcassone che abbiamo visto qui sono andotebole che non siamo mai riusciti a finire a livello 3 neanche 4 neanche 5 perché era difficilissima overbooking il gioco di quest'estate perché ovunque prenotiamo non c'è mai posto polinesia carino setup 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 ma setup star wars deck building game un gioco di star wars io sono sempre disposto a premiarlo perché ci sta sempre the hunger il gioco di granio creation con i vampiri che devono fare il deck building con i vampiri oppure si potrebbe stare the number e non è la versione di alice in borderland quindi non ci cade l'acido in testa the wolves che uscirà questo mese quindi di cui non possiamo dire niente tranne che ci piace perché ci sono i lupi tranquilli di che era un giocone di quelli lì con le carte che dobbiamo fare la il viaggio della nave pure carino e trichetta che è uscito sempre questo mese cioè il mese scorso appena arrivato nei negozi e questi sono i 33 se non sbaglio giochi che sono nella lista del gioco dell'anno 2023 a lucca comics io voto tutti i giochi che sono usciti oggi e che quindi non ho mai avuto modo di provare ancora una volta ringrazio gli amici di irtemis per avermi dato una mano nell'ossilare questa lista e ricordate sempre che pronosticare l'uscita dei giochi sul mercato italiano è un po' come tirare un d20 quando hai bisogno di un 15 e ti esce sempre un 2 c'erano sempre tantissime cose per cui questi giochi quasi mai rispettano la data di uscita ma spero che mi perdoniate per questo tentativo ancora una volta vi auguro buon gioco e ci vediamo il mese prossimo grazie a tutti